Perché il mio comportamento una volta in un modo e una volta in un altro? Perché non riesci a trovare il giusto equilibrio in quello che sei interiormente. Perciò non sei ancora te stessa e usi delle maschere per coprirti. Voi siete ancora i signori delle maschere. Ma qual è il male di avere delle maschere? Niente è inutile e nemmeno le maschere sono inutili. Ciò che differenzia la giustezza o meno di indossare delle maschere è il fatto di esserne consapevoli. Sì, ma spesso nella vita quotidiana mi dimentico che indosso una maschera. Se lo dimentichi vuol dire che ancora non sei consapevole di indossarla e che buona parte della maschera ha altri fini che ti sfuggono. Altrimenti ne saresti sempre consapevole. Mi metto cioè altre maschere che però sono inutili? Inutili no, però complicano la tua osservazione di te stesso. Tanto che non riesci ancora a venirmi a capo. Grazie. Grazie.